Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi vi farò vedere i miei acquisti che ho fatto ieri a Empoli di Terranova, Tallyway e Kiko e iniziamo da Tallyway ho comprato questa maglietta carinissima a sconto e costava su 5 euro era rimasta l'ultima e di questa ho preso una S molto carina qui è trasparente nera e rosa tipo fluo poi sempre da Tallyway ho comprato questi pantaloni che vanno molto di moda ora sono di un verde militare molto bello e questi non erano scontati perché erano della nuova collezione e questi costavano 30 euro 29 euro poi abbinati ai pantaloni ho preso una camicetta trasparente questa qui che volendo si può annodare in fondo ora vi faccio vedere si può annodare qua in fondo e viene così ve la faccio vedere sulla cruce perché così non rende eccolo molto molto carino e questa costava su 15 euro perché non era ancora sconto però ora se andate ci sono gli ultimi sconti del 70% questo è molto molto carino abbinato anche sotto questi pantaloni poi sempre da Tallyway ho comprato questa maglietta che c'è scritto Lost in Ocean molto molto carino che è costata 4,95 euro 5 euro probabilmente molto carino e di questa ho preso l'ultima erano tutte finie e poi ho preso questo zainetto di un materiale fantastico sono gli zainetti che vanno di moda di moda sì di moda ora è rosa fluo e nero con i gancettini di pelle e dietro è così qui ci sono due tasche davanti molto comode e dentro è molto molto grande con questo cinturino che lo aiude e questa è costata 4,95 euro e ce ne erano molte mi sa che ore sono finite sì perché erano gli ultimi sconti e con e con cannaway ho finito questa era la busta poi sono passata da Terra Nova e ho visto questa maglietta stupenda nera con scritto beautiful 52 è stupenda così da davanti ne rende però dietro è fantastica ora mi prendo una gruccia sempre queste grucce da dietro è stupenda ora mi metto la mano è tutta di fizzio nera molto molto carina questa sarebbe bella da vedere indossata perché dietro ha uno scollo av molto molto carino e questa costava su 5 euro poi non costano così tanto e ho preso la S perché è veste grande poi ho preso un vestitino tutto nero che anche questo così non rende ha un elasticino qua sulla vita molto molto carino e la gonna è molto svolazzante molto fresco questo vestito d'estate ha un tessuto sembra pesante ma è trasparente mentre nella gonnellina ci hanno messo una sotto una sotto sì oggi non riesco a parlare una sottoveste tipo di seta molto molto carina e questa costava su 10 euro e ho preso la S e con terra nuova ho finito poi avevo poco tempo e sono passata per un secondo da Kiko c'era il 50% di sconto su tutto e gli smalti erano a 1 euro e 99 ora questo che mi vedete è quello che ho comprato è stupendo è sul celeste metallizzato con i glitter dorati molto molto bello ed è anche a lunga durata e questo è costato 1 euro e 99 ed è questo qui che fa l'effetto liquido proprio gel molto molto carino ora non si vede niente non si vedrà qualcosa c'è troppa luce ecco e questo come vi ho detto 1 euro e 99 poi il pannellino è molto molto carino di quelli pratici molto comodi poi c'è un odore fantastico e basta con questo ho concluso ragazze ci rivedremo al prossimo video ciao ciao